Un saluto amici miei, siamo tornati nel mondo delle due ruote, un mondo un po' purtroppo dimenticato, un mondo che faccio fatica a portare sul canale come video perché la carriera di Tim Pen in realtà non è che è scomparsa nel nulla, semplicemente è un po' complicato portarci video, ma non ho intenzione di mollare. Mi chiedevo, MotoGP 22 è un po' che non ci metto mano, è uscito anche nel Game Pass, molto interessante, ma l'online non l'abbiamo mai provato, andiamo a vedere che brutta gente c'è, gare miste a caso, si parte. Ma ovviamente quando vuoi giocare c'è sempre di mezzo un aggiornamento, vabbè 845 MB dai. Ok ci siamo, io direi di andare a vedere le lobby pubbliche, proprio facciamoci del male. Entriamo in sta qua di Misano Moto3, non l'ho mai guidata, prendo la Suzuki di Suzuki, no, non credo sia una Suzuki. Oh come tranquilla a usare una Moto3 rispetto alla Moto2, poi io sono abituato in Moto2 ma c'è anche la MotoGP. Praticamente nessuno si è qualificato, Blending Paul sarà il capo della stanza. Partiamo con la prima gara, così come viene. Si parte col Power3. Saranno un sacco di contatti, già me lo sento. Oh, i lag, uh, sono già stesi lì. Blending è quello che ha fatto la pole. Glielo infiliamo all'interno così. Non farlo. Il Team Leopard qua davanti. Lascia, non tagliare. Ma non puoi tagliare così, ma sei zozzo. Gothic Warrior. Ma il curvone dentro, no, non si fa. Uh, cosa ha fatto? Ma perché? Ma è andato in un'altra dimensione. Rallenta, amico, dai che appari nel video. Cosa è successo? Ma cosa hai fatto? Aspettiamo Gothic. È qua, è qua. Team Leopard. Passa all'interno, si crede forte. Attenzione, lo rinfiliamo subito. Creiamo confusione. Eh, ma l'ho già seminato. Aspettiamo. Simuliamo un grippaggio. Non va, non va. Non va, non va, non va, non va. Ah no, devo mollare la frizione. Ma dove vai? La pista è di qua. Ma perché? Ma cosa è successo? Io voglio impennarla. Oh, 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 oh. Un impennator. Uh, che voltone. E niente, vedi, a fare il figo. Adesso devo rincorrere. Eh, riscontri subito così. Quello è andato nel sabbione. Sei ammazzato. Ma comunque riesco a fare tutta la gara col Power 3. Non è normale. Davanti dicono che è Gothic sia caduto. Finita la benza. Ma c'è scritto più 1,9 giri. Ma che cazzo vuol dire sta roba? Non ho potuto valutare molto bene i duelli. Passiamo a qualcosa di un po' più. Lo sa il MotoGP, vediamo. Andiamo in onda. Scusate, ma perché c'ho le gomme già un po' consumate? Ma quanto cazzo vanno? Che impressionante. Dovrei ricordarmela lo Zile. Forse c'è troppa elettronica. Mi sembra abbastanza facile. Togliamo un po' di traction. No! Qui è scivolata! Purtroppo siamo in due qua. Gli altri sono tutti bot. Ah no, qualcuno è entrato. Bene, bene. Partenza scattante. Allarga. Dreamerx. Oh, mamma mia. Eccola rilazzozzeria. Ma i bot si devono un po' più levare, però. Va che ha fatto il largo. Va che ha fatto il largo. Ancora largo. Anche prima. Dai che ci provo. Dai che ci provo. Vabbè, c'è ancora tanto tempo. Eh, questa l'ho sbagliata. Questa l'ho sbagliata. Non so se lui ha le soft. Power 3 scia. Sì, un sorpasso finto. Mamma mia. Che roba brutta che ho fatto. Peccato perché l'avevo recuperato. Spure caduto. Vabbè. Terza gara. Siamo un po' di gente. Forse vedremo qualche duello. Oh, va che bel mucchio. E' tutto pronto per la partenza del Gran Premio del Qatar. Facciamoli andare. Un po' di fuori pista, vedo. Oh, ma che infamia. No. Bastardo, chi è stato? Altro che appoggio. Lì proprio spallata. Tanto vi scavo tutti, voi zozzoni. Di qua la pista. Tra il torre è proprio inventato, vedo. Oh, no. Mamma mia, si è sbacchetta, però. No, ancora. No, qui non si cade. Sarà la revincita rispetto a prima. Poi è largo. Minchia che si è andato largo. Mi piacciono molto queste curve. Vai, vai, vai. All'interno. Suka non mi spigne. Lui avrà la scia adesso. Forse si infila. Lavoro, incrocia. Attenzione. Accendiamolo sul duello. E di fianco, di fianco. Minchia si è uscito forte. Uh. Non chiedere scusa mentre freni. Ma chi è? Chi ti ha insegnato a guidare? Uno fa a long lap addirittura. Ma veramente? Un altro voltone. Mamma mia, si è ammazzato. Io e Dreamer siamo ancora in piedi. Eh, è il mio settore questo. Lui lo fa proprio male. Va, 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 va. No. Cosa chiedi scusa che ti è venuto addosso a lui? Ultimo giro, eh. Facciamolo bello. Ha spallato a sto giro glielo d'alto, si mette in scia. Mamma mia, quanto ha perso dietro. Si è ritirata, forse. Me l'ha data vinta. No, 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 stai in piedi, stai in piedi. Ma perché devi cadere per forza? Ma minchia, mi ero raddrizzato. Un po' meglio, anche se siano troppo distaccati come gruppo. Con le moto è un po' un casino. Mi applaudono, così, quarto posto. Ah, quindi adesso c'è la votazione tracciato. Mugello. Si parte in questo gruppone. E' già un lungo, maledizione. A me, ma non sono l'unico. Oh, qualcuno si è ammazzato. No, 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 piano. Quando cadono rotolano sempre in sto gioco. No, no, no. Ma va a fai. Ah, Biker Life. Vieni qua. Uff, polverone. No, 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 scusa, scusa. Vabbè, ho giustamente pagato quella brutta mossa che ho commesso. Qualcuno è steso. Cioè, aspettiamo qualcuno, va. Almeno corriamo insieme. Quanto cazzo vanno. Ah, vaffanculo, va. Niente, non ce la faccio. Non sono pronto con queste moto. Poi è un po' che non gioco a MotoGP in generale. Non ci siamo. C'è bisogno di tempo. Non è un gioco dove ti puoi approcciare alle piste così. Dal nulla. E infatti cado. Ho una bella figura. Riusciamo a farla? Forse. Ma com'è bello stare in compagnia. Eh, no, no. Io manco se stare... Ah, porca. Non so l'unico che si è steso. Non si entra così. Non si fa, cazzo. Pitillo è sempre lui. Il mio rivale. Urca, cosa lo stava facendo Pitillo? No, non cadere, non cadere, non cadere. Che traiettorie orribili. Mamma mia, che... Ah! Sono tutti per terra, sono. Ero partito sbeffeggiando gli altri con le Moto3. Da lì iniziato un declino incredibile. Mi mancava Pitillo, per quello sono caduto. Pitillo, bello! Guarda Pitillo, cosa si infila! E si ammazza così! Formaggio greco, la feta. No! Ma che è stato? Cos'era? Come ha fatto arrivare a quella velocità? Oh, attenzione. Sono due posizioni da ghiottonare. No, così. No, 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 no. Lascio lo spazio. Lo sapevo che si infilava. Lo sape... Cagniaccio. Attenzione perché c'è RCJet che mi vuole babbare la quarta posizione all'ultimo giro. Vediamo se ci sarà un po' di infamia. Se ne proverà di tutto. Tutte. Lo sapevo. Lo sapevo! Come lo sentivo che eri una merda? Bastardo. Bastardo! Vai a fa' il culo! Su! No, mi ha fregato! Ma va... Signori, tiriamo le somme dalla serata. MotoGP 22 online com'è? Un bel casino. Un bel casino perché se sei veramente bravo allora ti diverti, fai qualcosa di interessante. Però secondo me anche quelli bravi fanno fatica a fare quei duelli puliti come succedono nella realtà. Qui i contatti sono all'ordine del giorno. Le bastardate, le fiondate ci sono. Però ammetto che anch'io magari spesso sbagliavo per delle staccate sbagliate. Non è un gioco facile ragazzi. Non è un gioco da tutti e ha poco senso giocare nelle pubbliche. Potrebbe essere divertente fare delle cose private, sessioni private con tantissima gente. Quindi lobby piene, 20 piloti. Allora magari lì sì che ci si diverte. Continuerà la carriera di Team Penn in Moto2? Non si sa quando. Continuerà la romanzata di Team Penn. Prima o poi ci torniamo, tranquilli. Salute da MAPO, a presto. Ciao!